Buongiorno a tutti, parla la Venkato Farm, stiamo vedendo la ripuntatura dell'Orzo 2010 con un New Orleans T650, con ripuntatore Pegoraro, su liquame, Tara diciamo abbastanza bagnata, macchina non cede, slitta poco, motore fa paura, tanti criticano, ma bisogna provare per vedere Settimo il rombo Profondità circa 30 cm, 30-35 cm, ripuntatore per soia Eccolo ragazzi A voi commenti? Speriamo belli, picchi e brutti Grazie a tutti La macchina non cede, il motore Non so se voglio che vi dica Quintate Saluto a tutti, buona ripuntatura, rattura, trabiettura, che considero fare Saluto a tutti Grazie a tutti